Alcuni quotidiani nazionali titolano Salerno come colonia, ma quanto accaduto a Materno sembra essere ben altra cosa, un semplice approccio verbale di un ragazzo di 20 anni che ha salutato dal balcone una ragazzina. In sei anni in quella casa non è mai accaduto nulla, solo una volta c'è stato l'intervento delle forze dell'ordine per chi ci fu una lita interna fra i ragazzi. Ieri non è successo nulla, per bocca della stessa famiglia della presunta vittima che ha dichiarato che non è successo nulla, che c'era stato solo un approccio verbale da parte di questo ragazzo che è finito al centro di un fatto di cronaca gravissimo che poteva scapparci il morto. Il messaggio adesso deve essere di distensione, evitare di buttare benzina sul fuoco. Intanto voglio dire l'episodio dell'altra sera, dell'altra notte è una bravata di ragazzi che rischiava di diventare un drammatico incidente, questo ci deve far pensare, è un episodio piccolo ma allo stesso tempo enorme perché emblematico, perché su questo episodio mentre noi parliamo c'è qualcuno che già ci sta continuando a costruire carriere politiche, c'è qualcuno che privo di responsabilità sta giocando col fuoco perché anche fare un certo tipo di titolo oggi significa provocare magari dei morti, qui non si scherza, la questione è delicata. Noi eravamo scorati fino a qualche ora fa, adesso riprendiamo a lavorare perché quello bisogna fare, bisogna lavorare, qui non c'è un problema in migrazione, qui c'è un problema sociale serio, c'è una crisi sociale fortissima dove si innestano, chiaramente si vanno a innestare altre faccende dove appunto le teste calde che possono essere tra gli immigrati così come tra i nostri, in questo caso stiamo parlando di teste calde tra gli autocotoni che appunto rischiamano di far diventare quella notte una notte tragica per la nostra città.